Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Lori ASMR. Allora, spero che stiate bene ragazzi. Io, prima cosa, ho messo lo smalto che è un pochetto rovinato perché sì, perché ci vado intorno tipo così e quindi lo rovino. E niente, è la prima volta che metto lo smalto nero, quindi quando lo messo ero molto gasato, diciamo. Perché appunto sto cercando di smettere di mangiarmi le unghie da già da un po' che sto persistendo, diciamo. Quindi, che volevo dire? Ah, oggi volevo realizzare un video un po' di hand movements and sounds. Come out sounds. Ciao. Ciao. Mi cade la luce da qua di fianco, quindi cerchiamo di tenerla bella in velico. Un po' di finger flattri. E questo è un po' di finger flattri. E questo è un po' di finger flattri. Questo è un po' di finger flattri. E questo è il suono del davvero. ma non sono bravo a farlo come lei però wild intendo ovviamente ok Alla prossima. 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 Allora. Ragazzi. Il video di oggi finisce qua. So che è stato un video un po' più corto rispetto al solito. Però oggi va così. Spero tantissimo che vi siate rilassati. Diciamo che volevo realizzare un altro video in realtà questa sera. Un tapping su di voi. Solo che la fotocamera si muoveva tutta se facevo questa cosa. e quindi ho optato per questo video. E quindi niente. Spero veramente tanto che vi siate rilassati. Dopo averlo detto almeno 50 volte. Però davvero lo spero. E ci vediamo dunque. Oggi è sabato. Quindi questo video esce domenica. E quindi ci vediamo giovedì. Ormai raga per me tutti i giorni sono uguali. Quindi perdo il conto dei giorni. Spero di riuscire a smettere di mangiarmi le unghie e prima o poi di riuscire a fare un tapping decente. Nel frattempo vi auguro una buonanotte, un buon riposo, una buonanotte, un buon riposo. Un buonanotte, un buonanotte, un buonanotte. Un buonanotte. Buttigieghi Grazie.